Il pubblico torna in Piazza Duomo per il corteggio storico dell'8 settembre, che quest'anno avrà una formula a metà tra tradizione e innovazione nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi anti-Covid, prime tra tutte l'obbligo di prenotazione e il Green Pass per l'accesso. Come nell'edizione 2020 non ci sarà la tradizionale sfilata dei gruppi storici per le strade del centro. Tutto si svolgerà in Piazza Duomo dove momenti di spettacolo e musica faranno da cornici al momento più solenne della festa, all'ostenzione della Sacra Cintola. Già esauriti mille posti in piazza ad ingresso gratuito per gli spettatori. Le celebrazioni iniziano la mattina dell'8 settembre alle 10.30 con il solenne pontificale in cattedrale. Al termine della messa offerta dei ceri alla Madonna del Sacro Cingolo da parte del Comune di Prato, la Sacra Cintola sarà mostrata ai fedeli presenti in cattedrale. La celebrazione è trasmessa in diretta su TV Prato. Alle 20.30 avvia all'edizione 2021 del corteggio in Piazza Duomo. Ad alternarsi saranno lo spettacolo dal vivo offerto nel segno della tradizione dagli sbandieratori del gruppo storico di Montemurlo e dagli alfieri e musici della Valmarina, la musica dell'ensemble Terzo Tempo con omaggi a Franco Battiato e Denny Morricone, lo spettacolo di fuoco e lucide e lumen in voco. A seguire il monologo teatrale dell'attore Giovanni Scifoni, protagonista di film e fiction di successo. Amici di Prato, come sapete tutti quanti l'8 settembre ci sarà questa festa bellissima in Piazza Duomo. A Prato ci sarò anch'io, farò un mio monologo, poi dopo ci sarà musica, ci saranno tante cose stupende, però ci sarà l'ostensione della Sacra Cintola. Io sarò testimone, non vedo l'ora, sono emozionatissimo. Vi aspetto tutti quanti, vi abbraccio, ci vediamo l'8 settembre. Alle 22.30 sarà ufficiata l'ostensione del Sacro Cingolo Mariano e al termine l'Ave Maria di Schubert chiuderà la festa della Madonna della Fiera.